E' tutto? Questo non vende. Ti hanno offerto la campagna per il no. E' l'occasione che abbiamo di rovesciare la dittatura. Non si preoccupi, questo referendum è completamente solito. Ci sbalazzeremo di Pinochet. Stiamo utilizzando un linguaggio pubblicitario, ma che ha alle spalle un concetto politico. Vinceremo. Siamo onesti, oggi il Cile pensa al suo futuro. L'allegria sta arrivando. A me sembra una pubblicità della Coca-Cola, anzi è molto peggio. Ti prego, per favore. No, no! Ho capito, no! Prevedo problemi. Voglio dire che no. La loro campagna è molto scherzosa. Il presidente vincerà lo stesso, smettiamola con le cazzate. Pronto. Non è più una piccola campagna, è un affare di Stato. Ieri sera ci hanno minacciato tutti. Sta' attento a tuo figlio. Che il Cile sia libero e abbia una televisione libera, ora dipende solo da voi. Di Nero pioggia. Ti resta. Ti assiste. Ti resti. Ti resta. Grazie a tutti.